Signore e signori, Tino Simonetti! Buonasera Tino! Sei altissimo! Sei più alto di me! E' più alto di te! Finalmente ho conosciuto una persona più alta di lui! Allora Tino, buonasera e grazie per la canzone! Bella canzone, tra la canzone di Giacca e la canzone drammatica Ma prima di parlare di questa canzone, il proverbio qual è? Para Bullucenelle Spavandata Remmaruz Sì! Antonio! La definizione del significato? Allora, il significato è, si dice di una persona che si spaventa con facilità di un pericolo inesistente Ah, ho capito! Bene, chiamiamo il flash storico dalla regia, prego! Applausi 1928, Bovio Albano, Umei Amic, Tino Simonetti, prego! Grazie! 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 Grazie!